Tutto pronto per la partenza del giorno 3 Allora, nessun problema con la moto Ho cambiato le pastiglie una volta Ho rotto un po' i paramani ma Va bene lo stesso Ho girato la ruota, quindi stiamo usando lo stesso setting Da questo è il terzo giorno Incrociamo le dita E vediamo cosa succede nel giorno 3 Siamo qui? Sì Io voglio fare l'ho fatto e finito Siamo in una parte di liaison Praticamente una specie di trasferimento che dura, hai un tempo di ingresso e ti danno un tempo di uscita da rispettare Quindi adesso siamo in pausa 10 minuti Questa mattina il percorso è decisamente più veloce E la stanchezza inizia a farsi sentire però dai teniamo botta Se no non arriviamo alla fine Come è la riuscita? Molto bella, molto bella Super! Super organizzazione Allora non so se si vede ma qui è una bella salita Una bella viscita Sono alla ripartenza dopo l'assistenza con Johnny Walker E' una figata perché prima ha passato un concorrente della Iron E quando è passato lo ha ringraziato Johnny! All is good? No No Wide open Too tired You are young and you have to push I'm not young I'm old Pregnale Questa parte è stata devastante Aggua le ginocchia, moto sotto acqua Le ho viste di tutte, sono rimasto bloccato anch'io, per fortuna mi hanno dato una mano e questa è pesantissima. Com'è questo? Finito il giorno 3, la prima metà veloce, la seconda un inferno, durissima, mi sa che si vede alla faccia. Tu puoi vedere il mio face, non? Si, sembra bene, come ogni volta. La bicicletta è buona, un po' di più, ma in un pezzo. Si, non sembra così bene. Chi si parla è il Mr. Peter Ardenduro Award? Si, noi facciamo il nostro bestia, tutti di noi. Mr. D! Hai fatto bene, hai fatto bene? Red Bull Romaniac, un terzo giorno, una signorina che arriva dall'Australia. Ciao, ciao! Ciao, mi chiamo Cheyenne Jones, sono dall'Australia. Super, come è stato il giorno? Si, è stato lungo, un po' sentitivo, ma è stato buono. Questo è il tuo prima volta? Si, si. Cosa pensi del Red Bull Romaniac? Si, è fantastico, dei giorni lunghi, buoni monti. Quindi, si, mi piace. Ti piace? Si, è buono. Super, superwoman. Grazie. Ciao. Ciao. Dall'Indonesia con furore. Si. Come è stato il giorno? Il terzo giorno. Il giorno è davvero veloce, ma non posso andare veloce veloce. In l'Indonesia non c'è nulla. È nuovo. È nuovo? È nuovo. È nuovo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, come stas? Buongiorno. Sobreviviste? Si. Estoy cansato. Cansato, eh? Cansato, claro. Tu no? Io sì. Tu tambien? Bronze, io sono dei mali. Buongiorno. Come è la gara? È molto dura, molto dura. Ti piace? È molto più dura che in altri anni. È molto cansato, difficile. Credo che ogni anno è più difficile. Però, beh, io vengo della Repubblica Dominicana e è una esperienza per me. Il terzo giorno è un'esperienza per me.